Ben ritrovati in Psiche d'Intornio Home Edition insieme a me Cristiana Mastacchi e a Elena Lorenzini la psicoterapeuta ciao Elena ciao Cristiana in queste nostre puntate abbiamo scelto il filone della resilienza e cioè di quella forza che abbiamo di affrontare in maniera positiva gli eventi traumatici abbiamo parlato di vari personaggi oggi abbiamo scelto uno stilista Sì Yves Saint Laurent che tra l'altro ho scoperto in questi giorni aver avuto una vita bella impegnativa e pensando a Yves Saint Laurent ho trovato una frase di Seneca che ora Cristiana ci leggerà Le difficoltà rafforzano la mente così come il lavoro irrobustisce il corpo lo diceva Seneca per l'appunto è vero anche se uno preferirebbe non doverle affrontare Eh sì è vero però è anche vero come che dalle vite diciamo delle persone che vi abbiamo raccontato in questi giorni diciamo sono svoltate nel momento in cui hanno avuto insomma dei problemi nella loro vita nel loro percorso Si sono dati il famoso colpo d'aria a quel punto la vita si è completamente rivoluzionata Chissà se avessero avuto una vita piena di agi e nella bambagia come si suol dire se la vita sarebbe stata diversa o meno Che cosa lì è successo a Yves Saint Laurent? Praticamente lui nasce in Algeria si trasferisce a Parigi dove inizia a fare lo stilista per Dior subito Quindi arriva subito in questa casa famosissima di moda e inizia a fare successo Poi negli anni 60 viene chiamato in guerra per la guerra indipendenza algerina e quindi viene arruolato Quindi va via dalla Francia torna in Algeria dove dopo pochi mesi diciamo entrato nell'esercito viene subito additato dai comilitoni Quindi inizia a fargli un nonnismo così pesante che lui viene ricoverato in ospedale psichiatrico Inizia una forte depressione e durante questo ricovero cosa succede? Dior lo chiama per dirgli che viene licenziato Quindi licenziato, nonnismo, situazione pessima a livello psichico Tant'è che poi prende i psicofarmaci che creeranno la dipendenza alle droghe e li fanno l'elettroshock Quindi tutto quello che gli poteva succedere gli è successo A un certo punto si riprende, torna a Parigi e lì dice che due cose importanti gli hanno permesso di sopravvivere La passione per il lavoro e questo grande amore che aveva trovato, che è il socio poi il quale ha creato poi la sua casa di moda Quindi insieme a lui prende forza, denuncia Dior, vince la causa E a quel punto quindi con i soldi riesce a prendere, si apre la sua maison, la sua casa di moda Tra l'altro lui è una persona anche molto innovativa perché è il primo a far mettere i pantaloni alle donne Quindi a renderle indipendenti E secondo me la cosa importante, la cosa particolare di questa vita è appunto il coraggio nel rialzarsi E il dire è un mio diritto quindi lo faccio valere perché penso che, come si può dire, me lo merito Ecco, questo è un altro aspetto importante delle nostre vite perché a volte veniamo davvero maltrattati Se non a parole magari in certi comportamenti, in certe azioni, nel caso suo appunto era stato licenziato E non sempre si trova la forza di reagire perché si rischia di cadere in quello che può essere anche una mancanza di autostima Di dire beh, se è successo è perché allora si vede che non ho fatto bene il mio lavoro Invece lui ha saputo credere in se stesso Si era, diciamo, l'aspetto secondo me vincente che gli ha permesso poi di risollevarsi Era il credere che lui aveva un talento E che questo talento era stato sfruttato da queste persone Che poi alla fine l'avevano in un malo modo mandato via Cioè quindi l'avevano sfruttato e buttato E lui dice no, non me lo merito Però il non me lo merito è il passo successivo Il primo è io sono bravo Nel senso io riesco in questo lavoro Cioè quindi riconoscersi che abbiamo un talento Riconoscersi che sappiamo fare bene quella cosa E credo sia il passo fondamentale Perché se non ci diamo un valore noi Figuriamoci se ce lo danno con gli altri È vero, questo può essere un invito alle tante persone Che sono bravissime a fare determinate cose Che magari le fanno solo per hobby Ma che sarebbero invece in grado di farne un lavoro E per paura di rischiare non lo fanno Eh sì, molte volte diciamo Non ci manca il talento Non ci manca il tempo Magari ci manca il coraggio E riconoscersi che sì, lo so fare Ci posso riuscire, no? Cioè il coraggio manca molte volte Per fare il passettino Con il quale poi ci possiamo lanciare E noi invitiamo tutti invece ad avere coraggio Sì Bene, alla prossima Ciao Ciao a tutti